per cucinartusi.it oggi sono arrivato fino a sciacca e sono all'Upo Unione Produttori Olivicoli Sicilia, Upo Sicilia e sono co-presidente di questa OP, perché è una OP, Organizzazione di Produttori, che si è costituita tra l'altro come dicevi nel 2014 e sono col suo presidente che si chiama Paolo Mandracchia, tu penso sarà il rigenere di qua di sciacca, quindi è nata nel 2014, prima però c'era un'altra forma di associazione, c'era un tessuto sociale già attivo, però ovviamente voi l'avete portata a quanti soci siete? 1100 soci circa, rappresentiamo 2500 ettari di superficie olivetate. Sì, diramano nel territorio agrigentino, ma mi hai detto che c'è anche qualche altra provincia pure di entrata. L'area più consistente come presenza di produttori della superficie è sciacca e calta bellotta, qualcosa anche su menfi e arrivano da qualche anno anche produttori provenienti dalla zona di Castelvetrano, quindi dalla provincia di Trapani. Voi mollite principalmente, intanto abbiamo Colilla che qua a calta bellotta c'è una grande produzione, c'è la suola e nocellare ovviamente e fate due linee, una di maggiore qualità e una di buona qualità, quindi avete voluto fare un'eccellenza e un buon olio comunque. Ma quello che mi ha tratto e mi ha portato qui è stato l'avere assaggiato l'olio Perollo che è la vostra linea di punta, che in giro è stato portato da Fabio Bentivegna, che non solo mi ha fatto conoscere quest'olio, ma anche il vostro amaro, ma di questo parleremo dopo. Invece ti volevo chiedere una cosa, come siete riusciti a mettere assieme quasi 1200 teste? E' una cosa quasi impossibile, olivicoltori tra l'altro, perché già nel mondo del vino bene o male qualche esempio c'è di associativismo, invece nell'olio sono pochi. Sì, ma è un lavoro lungo e non è il frutto di un singolo, qui c'è un grande team che ha portato il risultato. Tu da quanto tempo sei Presidente? Dal 95. Quindi diciamo che è anche merito tuo? Sì, sono stato sempre presente per carità, però non è mai un grande risultato o un buon risultato, non è ascrivibile solo a un singolo, quindi è normale che ci sia stata la compartecipazione di tecnici, di altri amministratori e anche di tanti soci che hanno creduto fortemente in questa opportunità che la Comunità Europea, l'Unione Europea e lo Stato Mendoe Italia mettono a disposizione degli agricoltori, in questo caso degli olivicoltori, quindi la costituzione dell'OP che serve per dare garanzia ai produttori, per creare massa critica, soprattutto per tentare di non disperdere quelle che sono le caratteristiche autoctone degli oli che vengono prodotti nel nostro territorio. Voi però fornite anche servizi, mi hai parlato di servizi ai soci, quindi questo secondo me è stato anche un traino, ma parliamo dell'olio, intanto stamattina abbiamo visitato Olimpiano, un impianto che è modernissimo, visto un centrifugo a doppio ciclo, separatore di ultimissima generazione, un impianto fatto con criterio, mi spiegavi che tutta la parte sporca tra virgolette viene effettuata all'esterno, quindi fino alla prima frangitura e poi la pasta entra dentro l'impianto, dentro la struttura e segue le fasi varie tipiche. Poi mi hai fatto vedere che molite a freddo, non solo a freddo ma oserei dire a temperatura ambiente. In questo momento sì, la temperatura è 25-26 gradi, quindi non c'è bisogno di accendere la caldaia. Esatto, ma un'altra cosa, vuoi parlare di queste due linee, Perollo e dell'altra che si chiamano Cerbia se non ricordo male? Le linee sono diverse, non sono solo due, ci sono anche le linee degli altri clienti, la differenziazione è la linea Perollo che è di una società che è parte integrante di Upo Sicilia, perché è socia di Upo Sicilia, ha dato delle indicazioni ben precise per ottenere un olio di altissima qualità e quindi per far sì che ciò avvenga si deve fare un lavoro preparatorio, si devono conoscere le aziende e noi in questo caso siamo avvantaggiati perché i tecnici seguono le aziende tutto l'anno, tutte le fasi fenologiche dell'olivo vengono assistite dai nostri tecnici, quindi si fa una cernita guardando caratteristiche anche pedoclimatiche, quindi delle zone, il tipo di terreno, olivetti secolari, olivetti giovani, in rigu o in asciutto, quindi le variabili sono tante, quindi l'azienda Perollo ha scelto una linea di altissima qualità dandoci delle indicazioni che vengono mantenute, vengono anticipate le raccolte delle cultivar, per esempio la cerasuola che è una cultivar, si può definire rara, sì perché è una cultivar autocrona di questo territorio, se andate in giro non trovate, mentre la biancolilla è molto diffusa, la nocellara ci sono le etneara, quella del berice, la cerasuola è a sciacca e nell'areale vicino e quindi la scelta qual è? Chiedere al produttore che condivide il progetto Upo Sicilia di anticipare la raccolta non guardando quelle che possono essere le rese in olio, quindi dando il giusto riconoscimento al produttore per le olive che conferisce e lì si fa una grande selezione, questo è il dettame che arriva da Nocerbia invece, anche lì noi facciamo come Upo Sicilia la nostra scelta, cerchiamo di trarre il massimo vantaggio da tutti i conferimenti che vengono fatti dai produttori, abbiamo i quaderni di campagna a disposizione, conosciamo tutte le attività che vengono eseguite le aziende e anche lì facciamo una selezione, naturalmente più in alto ti spingi nel senso di qualità e più sono elevati i costi, quindi una società privata può investire in un certo modo, una cooperativa monopi deve cercare di contenere i costi e soprattutto di riuscire a dare un prodotto di altissima qualità in ogni caso. Perfetto Paolo, io ti ringrazio, arrivato a questo punto non ci rimane che assaggiarlo quest'olio. Ma forse ci riusciamo. Sicuramente sarà un assaggio un po' particolare, perché ho in mente... Vorrei vedere la vostra espressione dopo l'assaggio. Ho in mente una cosa un po' per la serie di famolo strana, chiamiamo Fabio Bentivegna e andiamo a fare questa degustazione, ci accompagni? Va bene. Perfetto, allora fra poco con la degustazione dell'olio per ollo e rieccomi con Paolo Mandracchia, presidente dell'OPI, abbiamo detto, OPI. Unione produttori olivicoli Sicilia. Sicilia. C'è da aggiungere una cosa a quello che abbiamo detto poco fa. Io dico sempre ormai da tanti anni che a noi mancano la 3C. La prima C è sicuramente quella della cooperazione. Voi l'avete realizzata alla grande, ormai da tanti anni che state assieme. La seconda C è sicuramente quella della certificazione e voi qua avete non solo gli impianti, ma anche i prodotti che avete certificato, quindi siete già a un livello interessante, ho sentito di GP, ho sentito di biologico, lo rivedremo più in dettaglio, ma anche alla comunicazione. Lì a che punto siete sulla comunicazione di quest'olio? Questa è proprio la menza C che abbiamo, perché abbiamo prima pensato alle prime due, all'organizzazione, per noi è anche una fase di gestione diretta della produzione, quindi con un frontoio in gestione diretta che ci ha dato grandi soddisfazioni, ma molto impegno. Però la terza C ci stiamo lavorando e preferiamo utilizzare le giuste risorse, perché se dobbiamo costruire una C pezzo dopo pezzo è come un vaso di coach, non la farai mai una buona comunicazione. Sicuramente come avete fatto dall'altro con gli impianti. Adesso siamo nelle condizioni di poter fare una comunicazione garantendo un prodotto che ha uno standard di qualità elevato. Sono olivi piantati non sulla sabbia, ma nel terreno. Perfetto. E io direi, ho arrivato a questo punto di assaggiare. Ovviamente qua siamo in un periodo che è quello di fine ottobre, più o meno. Molto particolare, che non è né carne né pesce. Si sono iniziate le moliture, ma ancora i blender non si sono fatti. Manca un prodotto che è il Perollo, che è il vostro prodotto di punta. Infatti lo stiamo assaggiando alla versione anno precedente. La campagna precedente. Questo sarà pronto addirittura a gennaio. Quindi è una degustazione da prendere un po' con le pinze. Siamo nella fase proprio iniziale. Cominciamo con la linea meno selezionata che poi comunque è una buona linea di qualità. Anche questo ovviamente. La Perollo è quella super selezionata. Ma cominciamo con la no cerbia. La prima che ci tocca assaggiare è la Biancolilla. Perché questa Biancolilla, che tra l'altro voi avete dei conferitori pure a Cartabellotta. Tantissime. Tantissime lì. Questa è una zona di elezione della Biancolilla. Cartabellotta è un territorio monocultivar, tutta Biancolilla. Una Biancolilla eccezionale. Di montagna quasi. Di montagna, sì. Perché siamo sui 900 metri di altitudine. di montagna. Questo fa una grande differenza. E poi una grande produzione bio. È un territorio che ha caratteristiche per l'agricoltura. Ed è biologica questo in bio. Allora intanto qui ci sono profumi. Faremo una cosa velocissima. Ripeto, queste tre bottiglie sono state appena riempite, appena molite. Quindi io di solito cerco di non assaggiare moliture fresche. perché ovviamente sono tutte sparate. Quindi bisogna un po' aspettare che decantino un po'. Però divertiamoci a fare questo assaggio. Ci sono gli elementi per fare una valutazione. Intanto c'è sicuramente una foglia di pomodoro. Anzi sicuramente è abbastanza importante. in bocca. È una potenza polifenolica non indifferente. Molto interessante. C'è da dire che voi fate le moliture tra l'altro a temperatura di un ambiente. Quindi se ci sono 26 gradi viene a 26, se ci sono 24 viene a 24. È una molitura. E questo è. Poi abbiamo qui un'altra monocultivar. Questa volta di nocellara. Mi sta tornando che è una maraviglia. E ancora siamo all'inizio. Non scherza. E questo è nocerbia. Questo è nocerbia. E manca qui il... c'è la sola impurezza. Sì. Che ancora non è pronta. Quindi passiamo alla nocellara. sempre nocerbia. Abbiamo già un cuore di carciofo. Ma è un cuore di carciofo molto dolce. C'è un filissimo, un filino di foglia di pomodoro. Ma il carciofo è dolcissimo. E la biancolina è leggermente amara. Ma un po' amara c'è. Ma il polifenoli dà paura. Ma questo è che poi molite, molite verde. Ma è importante. È l'unico modo per poter... È importante. Ma la selezione è anche questa. Differenziare le moliture per ottenere un prodotto di alta fascia. Quindi l'oliva più matura naturalmente andrà nella vendita dei convenzionali. In bocca conferma tutto. In bocca è morbidissimo. Sì. Cioè sembra quasi una biancolilla. In bocca è sempre la mandorla. E' proprio questa è un'aratteristica della biancolilla. Esatto. Ma questa biancolilla verdissima di una zona a nord dà un risultato veramente... Esatto. E invece questa nocella ha questa caratteristica in bocca di avvolgenza. Ma andiamo a vedere questo blend che contiene già la cerasuola che non abbiamo invece in purezza. Questo creerà una sensazione ancora più intensa. E intanto sì. In più potrei aggiungere, ma già forse l'avevo sentito, ho avuto l'impressione di percepirlo anche nella biancolilla. C'è un filo di origano che lo rende più prezioso. Allora assaggiamo anche questo. Questa è la prova del 9. E infatti al naso c'è sempre questo cuore di carciofo, perché evidentemente la nocellara c'è. C'è una percentuale. Le percentuali come sono suddivise? In questa fase noi per fare un ottimo blend lavoriamo in purezza e poi facciamo una miscela per renderlo equilibrato. Quindi è in base all'annata. Il mercato purtroppo è abituato a un olio non eccezionale. Qui sono quello che finora è arrivato. Sì. Non è assolutamente indicativo. Questa è una estemporanea della giornata ecco. In bocca c'è questa prepotenza della mandorla. Sì. Ma la c'è la sola poi da. E arriva una botta terrificante perché c'è qui evidentemente la c'è la sola. E arriva una botta terrificante di polifenolo che io non mi azzardo a strippare. Perché se la biancolilla già aveva dato il suo risultato figuriamoci. Esatto. Se no non posso più fare la registrazione. Questo invece è quello dell'anno scorso. Il perolo selezionato. La selezione del perolo della campagna oleare 2021-2022. Che è diciamo un po', sto sentendo al naso, è un po' la somma di questi. Ovviamente con un fruttato più basso perché è un prodotto che è arrivato alla fine della sua vita. Ecco un anno dalla nascita. Ma vediamo i polifenoli come ridotto. Noi abbiamo ancora le analisi a una percentuale di polifenoli elevatissima. Adesso non vorrei dare il dato impreciso però ci sono le schede, le analisi che danno veramente il senso del lavoro fatto. Infatti ancora c'è un suo perché. Molto interessante. Allora arrivato a questo punto io potrei anche dire per Cucinartusi un TT io ho finito qui. E invece no, non lo posso dire. Perché adesso c'è un piccolo incidente di percorso, un imprevisto o qualcosa di particolare che nasce dall'unione tua e di Fabio Bentivegna. Infatti adesso vedrete il cambio perché tu oltre a essere presidente dell'OP hai anche messo su una linea tua e di Fabio che parte dal perollo e finisce con l'amaro. Sì. Praticamente. Dobbiamo assaggiare questo amaro. E eccoci questa volta con l'amaro. L'amaro che viene sempre da questa joint venture tra Paolo Mandracchia e Fabio Bentivegna che è qui accanto a me in questo momento. E infatti siamo tra l'altro nella sede dell'aperollo. Guarda caso. Non è un caso. Siamo circondati da olio ma soprattutto da amari e sono due. Amarola e K1. E K1. L'amarola cosa c'è di particolare? L'amarola intanto preciso che sono due amari del nostro territorio, sono due ricette antiche che con Paolo, perché siamo grandi amici e compagni d'avventura, visto la sua esperienza, abbiamo visto poc'anzi, abbiamo deciso di mettere in gioco, commercializzare tra virgolette quello che da sempre ci ha circondati, perché sono ricette del nostro territorio, diciamo nostre. Abbiamo riassumato questa antica ricetta dove tra le botaniche principali prevede di utilizzare delle foglie di cerasola bio, unite da altre botaniche che nel caso specifico dell'amarola che è un po' diciamo liquoroso rispetto all'altro perché è composto da arancia dolce, aloe vera, limone e foglie di cerasola bio. Io però sento un filo di anice, mi sono portato avanti un po'. Allora, diciamo che queste che ho appena espresso sono le caratteristiche principali delle botaniche, sono ingredienti che esistono all'interno, poi magari si combinano. Sì, però se te le dico tutte poi mi tocca ucciderti. Potrebbe esserci dei semirianici. No, no, c'è qualcosa, c'è anche il cardamomo, ci sono quelle botaniche principali che prevedono di essere un buon digestivo. E quindi si presenta molto dolce al palato, ruffiano. Io questa dolcezza non glielo riscontro. Sì, c'è un filo di zucchero, ma rispetto ai cosiddetti amari industriali, o anche purtroppo a tanti artigianali che ho assaggiato, non è assolutamente molto dolce. E secondo me dovrebbe essere così. Ma io sono abbastanza di parte perché lo paragono al K1, che ha tutta un'altra struttura, quindi rispetto al K1 per me, però volevo spiegarti un po' quello che è successo. La valutazione generale non è affatto dolce. Ok, perfetto. E già questo è un grande pregio per me. La sua caratteristica è proprio questa, di essere così amabile e ruffiano al palato. E passiamo all'altro. Il K1, se tu mi consenti, non lo assaggiare senza di me perché è impossibile se non fai una… Intanto il K1 è un nostro cavallo di battaglia, l'abbiamo dedicato al nostro Monte Cronio, ecco perché nasce K1. abbiamo, diciamo che essendo un'acromola di K1… Diciamolo, Monte Cronio è un monte che si vede un po' da tutta sciacca che è come attivo, può essere la città. Ok, è proprio sovraste al nostro territorio. Le botaniche che utilizziamo sono proprio sotto il Monte Cronio. Ecco, K1 è nato un po' per scherzo per dire che se il K2 è un monte altissimo, noi K1 siamo piccoli, ma abbiamo grandi ambizioni. Allora, qui c'è veramente un po' di roba. Ecco la differenza che noi qui abbiamo scritto Elisir di cuore, questo lo abbiamo chiamato Amaro. Io non so sinceramente come potete scriverlo, perché ci sono talmente tanti di quei profumi, principalmente sto distinguendo un'arancia, però forse amara e non, diciamo, arancia normale. Anche qui è composto da molte botaniche. Perché dico? Perché si sente un po' amalostico dell'arancia, ovviamente l'amare amaro, però è morbido, non è un'arancia sparata, molto aglumata e quindi posso presumere da questo che è un'arancia amare, infatti il tuo mio percorso è un grande. Perfetto, ora ti confermo che, ora ti guido l'assaggio. Ma poi c'è un rabbarbaro, l'igrizia. Allora, le botaniche sono molto, diciamo, dettagliate e variegate su quello. Scusate Fabio, ma è poi freschissimo, è veramente fresco al naso, non l'ho ancora assaggiato. Allora, se tu lo assaggi, ti guido sull'assaggio, le botaniche che predominano, noi scherziamo su ogni sorso un percorso, perché il primo imprinting che hai sulle papille è l'arancia amara, che è di ribera. Arriva adesso la liquirizia, si aspetta un attimo, c'è un becoming della menta. Sì, vero, menta a tempesta. Ecco che noi ci scherziamo un po' che ogni sorso un percorso. Adesso che succede? Che tutte e tre le botaniche principali, perché ce ne sono altre, perché anche qui abbiamo il cardamoma, però... Non me la potevi, non me la direi mai. Io ti voglio bene, non ti voglio uccidere, se te le spiego tutte ti devo uccidere, però come vedi poi alla fine si amalgamano tutti per avere questo gusto o il retro gusto persistente per un po' di tempo. Siccome è monello, tra un po' tu cosa fai? Me lo bevo di nuovo. Un altro coccettino. Allora, questo sicuramente è un amaro magari sbilanciato un po' più sul commerciale, giustamente come dicevi, perché c'è un puntino di dolcezza in più, non è dolce, attenzione. Questo invece è assolutamente amaro, forse ci sarà, sì c'è dello zucchero, ma è assolutamente in secondo piano, non è andata su un fastidio, anzi, è un credente che si fonde con gli altri. Giusto tanto quanto. Questo è un grande prodotto ragazzi, questo è un grande prodotto. Allora. Per quelli che non vogliono osare c'è questo, ma se uno vuole osare e vuole un amaro, vuole gustarsi un amaro veramente degno di questo nome, allora devo andare sul K1, mi dispiace. Sei un buon gustaio. Allora, in realtà, basta assaggiarlo da rendere conto. Non a caso, se mi permetto di rubolare, non a caso siamo stati abbracciati, affiancati da subito, da quando abbiamo deciso di mettere in commercio queste antiche ricette di questo territorio, da grandissime figure di bartender di fama internazionale che a oggi sono i nostri brand ambassador, a parte i riconoscimenti in giro per il mondo. Bene, Fabio ti ringrazio però, ancora una volta non posso dire la mia fatidica frase, per cui c'è un artusi.it ho finito qui, perché non ho finito. C'è un test da fare, lo andiamo a fare? Quando vuoi. A fra poco, con l'ultimo test, torniamo all'olio. Ed eccoci di nuovo con Paolo Mandracchia, questa volta siamo all'Estra Bar, abbiamo cambiato diciamo location, perché dobbiamo farlo un po' più strano adesso, no? Una degustazione diversa. Era stato aggiungiato. Esatto, anche se io l'ho fatto già altre volte, per me non è una novità. Ma Paolo, quando gliel'ho detto, chiamai dice tu serio? Certo! E infatti eccoci, qui con i gelati preparati da Massimo Ingrao, e qui il primo è una nocciola, abbiamo selezionato questa nocciola, ecco qua. Io sono molto abbondante, e subito assaggiamo. Paolo tu vuoi assaggiare? Prego, seguimi. Penso sia l'obbligo. Per lo meno. No, perché da come hai descritto, quindi... Mmm! Mmm! Intanto è una nocciola non eccessivamente tostata, quindi esce di più la terrosità. Ottimo! Non male, non male. Questo è un buon abbinamento, si fa facilmente. Cioè, perciò c'è questo piccantino dell'olio. Ma io arrivo da questo punto, andrei avanti, e poi sarei il cioccolato. Purtroppo sarebbe stato meglio avere un cioccolato dark, magari anche, diciamo, anche un 70-72. Però, diciamo, questo sarà un 50, è un po' troppo dolce. Io giuro l'assaggiata, però ce lo proviamo lo stesso. Vai Paolo, fammi compagnia. C'è anche, perché proveremo la differenza tra una nocciola e un cioccolato. Mmm! Allora, anche qua non è male, però. C'è questo fondo. Oltre ad essere stato alla prima prova, rimane... È più convincente, è vero? In questo momento sì. Beh, è rimasto un azzardo totale, assoluto, che è il caffè. Ora, c'è da dire che questo caffè di Massimo è veramente buono. Io l'ho assaggiato prima, è veramente particolare, pannoso, ricorda un espresso. E allora... E allora, assaggiamo anche questo. Vai, vai, tendimelo, serviamolo assieme. Esattamente sì. La pallina. Ok. Anzi, siccome io fanno anche un po' pizzo setto. Vediamo se sarà una rivelazione oppure un abbinamento sbagliato. Credo che sia veramente la rivelazione che la nocciola era... Ma questo ha superato la nocciola. Quindi... Veramente eccellente. Io non dovrei mangiare caffè. Ma per evitare di fare affermazioni che poi non rispondono al vero, riprovo anch'io. Mmm! Credo che anche tu ci hai provato gusto. Eh, ma un po' sono buone, ma non è gustata, no? Bene. Abbiamo aperto un nuovo modo di degustare il gelato. È l'olio. A probabilmente è sciacca. Ma... Insomma, per noi sarà una novità anche in frantò. Per i clienti. Dovremo avere una gelateria vicina adesso. Esatto. No, abbiamo una vaschettina con un buon gelato. Bene, io è arrivato a questo punto. Posso veramente chiudere qui. Dopo questo test particolare, questa deposizionamenta particolare. E quindi, per cuocerartusio.it, io ho finito qui. Non ci mettere qui, no? Io le metto e le metto. All'altro è stato fritto l'olio. Sì, ma è 3.000 caroli in più ci sta. Sì, un goccino. Assaggia. E si è rotto. Ce l'ho messo l'olio pure nel cannolo. Mi piacciono più i dolci? A lui, bu, no, l'olio di più. C'è il grasso della ricotta che si è tirato tutto. Poi la scorza è stata fritta in olio. Quindi, non vedo perché stupirsi. E allora, questo è il risultato. C'è il tradizionamento di questo. Grazie a tutti.